Un momento giustamente di gioia perché si inizia proprio dalla vigilia, la vigilia è già un'introdurre in una festa così che sarà la festa che inizieremo qui domani. Inizia un giubileo, inizia un anno di grazia, inizia anche un anno in cui veniamo ricondotti alla freschezza degli inizi, questo era il significato del giubileo, un tempo di riconciliazione, un tempo di perdono, un tempo di riavvio quasi eliminando scori o appesantimenti nel nostro cammino. Ne abbiamo bisogno come comunità ecclesiale ma anche come comunità civile e allora l'augurio è che sia un cammino veramente di grande ricomposizione e di grande riconciliazione.